Alba Parietti ha condiviso con i suoi fan una giornata difficile che ha vissuto insieme al suo fedele compagno quattro zampe, Venghi. La conduttrice televisiva ha mostrato su Instagram il suo cane con due zampe ferite e ha rivelato di essere stata coinvolta in un incidente con lui. «Abbiamo avuto una giornata difficile, un incidente», ha dichiarato, sottolineando che ora Venghi necessita di cure e di un intervento chirurgico. Parietti, senza entrare nei dettagli dell'accaduto, ha espresso il suo profondo legame con il suo animale descrivendolo come un vero e proprio membro della famiglia. Ha sottolineato il ruolo di Venghi nel colmare un vuoto nella sua vita, riempendo di dolcezze e presenza il periodo di malinconia seguito alla morte della madre. L'idea di vedere il suo cane soffrire le provoca un dolore insopportabile. Venghi è un pezzo del mio cuore e della mia vita e pensarlo sofferente mi distruggia, condiviso esprimendo la sua speranza che Venghi possa presto tornare a casa. Ha ringraziato il figlio Francesco Pini e la sua fidanzata Francesca per il loro intervento tempestivo nel momento del bisogno. Infine ha chiesto ai suoi followers di inviare pensieri positivi per il benessere del suo amato animale, dimostrando quanto sia profondo il legame tra loro.